Andiamo a Milano adesso dove Giorgia Meloni ha chiuso la conferenza programmatica affermando qui comincia la strada di Fratelli d'Italia verso il governo dell'Italia. L'inviato è Francesco Mesano. Ci faremo trovare pronti. Giorgia Meloni chiude il congresso programmatico di Fratelli d'Italia a Milano lanciando la sfida per la guida del paese tanto agli avversari, nessun complesso di inferiorità, quanto agli alleati daremo orgoglio all'Italia con o senza centrodestra. Due messaggi sintetizzati nella metafora marinara, gli altri sono surfisti, noi siamo navigatori. Noi abbiamo dimostrato la distanza siderale che esiste tra quello che siamo e quello che di noi viene scritto e detto ogni giorno nel tentativo disperato di esorcizzare la nostra affermazione. Poi rivendica abbiamo classe dirigente proposte, dal no alla riforma del catasto, al rilancio del Made in Italy, dal sistema unico degli ammortizzatori sociali al blocco navale sui migranti. E in questo primo maggio si rivolge ai sindacati sostenendo che non sempre difendono il lavoro ma spesso i loro iscritti, conservatori, la parola ricorrente che sintetizza insieme la volontà di allargare il campo in vista delle politiche del prossimo anno e l'identità di partenza. E torna sul taglio netto col passato, ribadito ancora. Meloni prima definisce antistorici i saluti romani, poi lunari le accuse di nostalgia del fascismo, ora il rilancio serve un sussurto di orgoglio. E allora oggi primo maggio non possiamo non parlare del concertone a piazza San Giovanni a Roma, per noi c'è Leonardo Metalli. Leonardo.